Andiamo avanti, lei è un'altra cantata e viene da Grosseco, ha 22 anni, Sonia Pedretti! Ecco qua, ecco Sonia, ancora questi applausi, dai! Buonasera, anche per te non solo musica, ma sei una ragazza interessata tanto anche all'arte, giusto? Sì, fotografia, disegno, fai tra l'altro l'università a Firenze, giusto? Sì, di grafico. Di grafico, perfetto. È tra i primi concorsi che fai, partecipato tra l'altro anche l'anno scorso guadagnandosi la finale, e recentemente hai messo su un duo, con uno spiego, con una chitarista, giusto? Esatto. Andate a suonare nei locali, insomma, qui sta andando da un pari. Cosa ci hai fatto stasera? Crazy, di Gnanzi Bartley. Bocca al lupo, Sonia Pedretti! 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 Spiebo, Buon'lupo, Sonia Pedretti! Ah-ah-ah-ah! Come on, come on what you, come on what you think you are Ha 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 bless your soul You really think you are in control I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy just like me my heroes head and heart, do the lies of my life and all I remember is thinking won't you be like them ah, ah, ah ever since I don't feel, ever since I don't feel, you look like fun and I know I can be seen inside my mind and I can die when I'm down ah, ah, maybe I'm crazy maybe you're crazy maybe you're crazy you're crazy probably oh 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 E bravissima Sonia